Il TTX Summer Tour è pronto a sbarcare a Nocera Superiore. Sabato 9 settembre a partire dalle ore 16 presso la piazzetta Marco Polo si terrà questo evento organizzato dal tennis tavolo Nocera con il patrocino del comune che sancirà ufficialmente la stagione 2023-24 della compagine rossonera. Questo torneo vedrà la partecipazione sia di atleti agonisti che amatori pronti a sfidarsi in quello che è una disciplina simile al ping pong ma con alcune differenze sostanziali. Racchette e palline infatti sono diverse rispetto al gioco tradizionale così come il punteggio. Tutto questo rende questo sport ancora più divertente e dinamico. Per potersi iscrivere e passare alcune ore all'insegna del divertimento e dell'aggregazione basterà presentarsi direttamente il giorno dell'evento. Una disciplina che rispetto al tennis tavolo ha dei materiali differenti quindi una pallina diversa, un tavolo diverso e delle racchette diverse nell'obiettivo di equiparare quelle che un po' sono le forze in gioco tra una persona che ha giocato a più tempo e una persona che ha giocato a meno tempo. Quindi diciamo è chiaro che non c'è un gap, non è 0-0 ma sicuramente incentiva molto le persone, gli appassionati ad avvicinarsi allo sport. Per cui diciamo sabato pomeriggio nella piazzale della Marco Polo qui alle 16.30 abbiamo questo torneo in cui siete tutti invitati per provare questa disciplina che sicuramente ci divertirà tantissimo e ci avvicinerà ancora di più alla nostra società. Diciamo che è un obiettivo per cominciare la stagione insieme, questa è una stagione molto molto interessante e molto importante con tanti nuovi sponsor, tante nuove diciamo le realtà che ci appoggiano sicuramente più da vicino e speriamo anche tutti quanti voi che ci siete qui in ascolto.